Ogni rogo costa ai cittadini oltre 10.000 euro all'ettaro fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostruzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate. È l'allarme delle associazioni dell'agricoltura per una stagione davvero difficile. Per ricostruire i boschi ridotti in cenere dal fuoco, precisa Col di Retti Toscana, ci vorranno fino a 15 anni, con danni per l'ambiente, l'economia, il lavoro e il turismo. Un appello all'attenzione affinché questo drammatico fenomeno estivo venga affermato è lanciato anche dal presidente di Confagricoltura Arezzo, Carlo Bartolini Baldelli. È il momento, dice, di fare squadra e di difendere il nostro territorio. È compito di ogni cittadino segnalare tempestivamente gli incendi e le situazioni di pericolo. La rapidità di intervento può essere infatti decisiva per contenere i danni. Occorre potenziare a modernare gli strumenti in dotazione ai vigili del fuoco. Servono inoltre strumenti efficaci per reprimere tutti quei comportamenti che colposamente o dolosamente finiscono per innescare i roghi. Infine, conclude Bartolini Baldelli, occorre tenere in ordine il bosco. Si tratta di un valore importante, l'abbandono delle aree boschive può favorire gli incendi.